Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo nella prima gara dell'anno nuovo Iniziamo e vi farò vedere cosa mi metterò per andare in gara Poi io per andare in gara mi metterò La camicia del mio centro ippico I pantaloni bianchi La giacca, questa giacca bellissima nera Con i bottoni che hanno i cavalli Poi i guanti E poi queste calze portafortuna Che ho sempre messo nelle mie gare E poi il cap Allora ho messo la manetta termica e i pantaloni bianchi La manetta termica l'ho messa perché va tantissimo freddo Perché siamo in inferno E adesso metto la camicia Oggi in gara farò la 70 e la 60 con la mia pony E anche domani farò 60 e 70 La mia pony si chiama Rida E fa 5 anni quest'anno Ora mettiamo la giacca Ecco fatto Abbiamo messo la manetta giacca Ora mettiamo il cap E partiamo Adesso abbiamo preso queste chiavi bellissime Queste chiavi sono le mie persone Ho scritto Rida e Mattia E questo porta chiavi è bellissimo Mi piace un sacco Allora ragazzi adesso siamo in autostrada Siamo quasi arrivati E dopo vi farò vedere le cose che ci sono nel cassone E il mio cavallo Ecco siamo arrivati in gara Adesso andiamo a trovare la nostra pony Ecco prima della gara Abbiamo, ho mangiato un panino Adesso sono venendo Stiamo guardando una giuntana E quello è il campo di gara È il campo gara E io la gara la farò Più o meno Alle due e mezza Tre Allora ragazzi adesso La fila ha appena finito di fare Gli 50 Che ha fatto lento Però non gli ha fatto alcuna E adesso mi messo io Che faccio la 60 E se va bene la 60 Faccio la 60 E va La fila ha appena finito di fare La fila ha appena finito di fare La fila ha appena finito di fare Fino finito andare a parto del topo e farò la categoria citata Grazie a tutti. 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 Non credo che ho preso la coppa. È la mia prima coppa. È anche la mia prima coppa dell'anno. Quindi domenica il 21 febbraio saranno il giorno preferito. È il mio giorno che ho vinto la coppa. È il mio giorno che ho vinto la coppa. Mi è piaciuto questo video in cui sono arrivato a terza. È una bellissima coppa. Non è un'è... Non è un'è... Ciao.